Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video filmato alle 20.30 perché come ben sapete chi ha visto il video di ieri lascio la scheda informativa qui sopra ho cambiato la programmazione del canale poi, tralasciando questo, cosa mangio in un giorno? colazione con 3 abbracci e una bella tazzona di tè caldo il pranzo invece ho mangiato un mix tra farro e orzo lesso che adoro da impazzire così, molto semplice con vicino, come vedete, un uovo sodo anche qui molto semplice, senza condimenti a me piace alcuni cibi proprio al naturale, ragazzi poi dipende cosa e poi vicino delle zucchine ripassate in padella con un filo di olio, sale e un po' di peperoncino la merenda del pomeriggio invece, siccome siamo ancora belli, come posso dire, forniti dalla Befana ho scelto un dolcettino e il mio KitKat vince sempre quanto adoro i KitKat da impazzire quindi KitKat con vicino questa bella tisana cena invece ho mangiato un po' di fagiolini all'acro con vicino un po' di formaggio che ho dimenticato di riprendervi arriviamo al poste cena dove ho bevuto un bel finocchio e ragazzi con questo è veramente tutto ci vediamo domani sempre alle 20.30 ciao e mi auguro che questa nuova programmazione dei filmati vi piacerà ma penso di sì perché ho visto molte adesioni ciao 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 ciao